L'inferno dell'inventario è sempre pieno e finito Finalmente sono arrivate le ceste TADAAA E ragazzi come va? Io sono Ferinichi E io sono Steph e che si giochiamo a Raft? E siamo tornati su questo bellissimo gioco Che è stato ovviamente aggiornato E ovviamente con l'aggiornamento abbiamo dovuto Rifare tutto da capo perché non prende I salvataggi delle vecchie versioni Accidenti Accidenti abbiamo dovuto rifarmare ma questa volta Questa volta preparatevi perché abbiamo fatto La base più bella di tutti gli episodi Secondo me è davvero bellissima Complimenti a Steph che l'ha creata lui Per una volta ti faccio i complimenti e non ti insulto Almeno si è fatto perdonare Di tutti i fail dei precedenti episodi Non ce l'ha bisogno No basta tornare No non ce l'ha bisogno Comunque Comunque Finalmente ci sono le ceste Sono quali abbiamo già posizionate Alla sinistra abbiamo la legna Legna Alla destra abbiamo le foglie E al centro abbiamo cibo E un po' di cose che avanzavano Mixate Se va state chiedendo Sì pieno 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 No la vita di Steph non è piena Non ha nulla da fare Ok È la zona delle ceste Proprio Semplice Carina Sistemate in modo carino Qua abbiamo tutte le reti coperte con questa bellissima muraglietta carinissima Ovviamente sono il tanto giusto da non perdere nessun materiale E qui per ora ci sono delle palme che sono provvisorie Perché ovviamente dobbiamo rifare la serra e la palma della salvezza Servono di nuovo entrambe Vanno rifate entrambe No allora La palma della salvezza proprio deve rimanere per tutta la serie C'è incredibile Vai dillo al gioco che ce lo toglie Pasqualmo non puoi eliminare E va bene Ma mica sono io Però teoricamente se abbiamo riniziato Lo squalo è tornato a essere Pasqualo No Perché riniziando No secondo me Apriamo Ok A una nuova generazione di squali Va bene Hai un'idea Allora inizia Cosa Hai un'idea Sì certo La sto elaborando nel mentre che parlo Per quello sto parlando lentamente Quindi stai allungando Perché hanno bisogno di muoversi i cricetti in testa Capito Quindi sto allungando Pensare la prima era mainstream Eh no Perché adesso non ci ho pensato che non c'è più Pasquala Capito Ah ok Uno squalo femmina Sì Ok Che sarà la moglie poi delle generazioni Ok Ok E si chiama Rosetta la squaletta Perché cambiamo Non è che li puoi chiamare tutti Pasqualino Certo Perché nei commenti Sì Molti dicevano il prossimo chiamalo Pasqualina la squalina Però secondo me abbiamo abusato molto di Pasqualo E direi che in suo onore lasciamo il Pasqualmo Dici che Era una mancanza di rispetto continuare Dai perché non puoi continuare all'infinito Quindi adesso prendiamo Rosetta la squaletta Possiamo dire Cosa dobbiamo fare in questo video No perché sai abbiamo iniziato Abbiamo detto soltanto cose inutili Ho anche pensato il nome del marito L'ho letto da un commento Poi te lo dico Ok Quindi questa qua è Rosetta La squaletta Rosetta basta per me Grazie La squaletta La squaletta Tenitela per te E se è il nome del marito Quale sarà Vai Lo dico ora Vai Lo dico in un commento Ok Carlo lo squalo Non fa rima ma ci sta benissimo Cioè Carlo lo squalo ci sta benissimo Ok Dai andiamo avanti Ok Andiamo avanti Comunque In questo episodio Proveremo a catturare Rosetta Tutti nei commenti Sono stati super scettici Tutti dicevano No ma non fa No ma non si può No ma è impossibile Mangia le fondamenta Ci passa attraverso Di tutto di più Cioè era una negatività incredibile Esatto Ma noi ci proviamo allo stesso Esatto Noi ci crediamo allo stesso Noi pensiamo di potercela fare Quindi oggi cercheremo di farlo Per di più Abbiamo visto un video inglese Che ci ha dato la conferma Che la fine del mondo esiste Esiste E chi aveva ragione ragazzi Feri e Niki E adesso io lancio l'hashtag Feri e Niki ha sempre ragione Steph sbaglia Questo però non mettetelo nell'hashtag Perché Steph non merita considerazione Proprio Quindi solo Feri e Niki Ha sempre ragione Posso parlare? Forza Feri e Niki Hai finito Sembra una campagna politica Esatto Finito Sì Posso? Allora io volevo dire Posso? Che io glielo dicevo Continua perché c'è per forza La fine lui No non c'è La fine non c'è Capito? Ma allora Con questa voce Quella pessimista sinceramente di tu È perché tu non volevi continuare Ecco qua La cosa che fregherà Rosetta E che ci permetterà di catturarla Appena lei entra Noi chiudiamo questi due E teoricamente rimarrà incastrata Allora E lo spero sì Secondo me anche se si mette a mordichiare Ci mette una vita E quindi noi costantemente ripariamo E ricostruiamo Eh sì Quello l'avevo pensato L'avevo pensato anche io Che ci devi proprio fare attenzione E ricostruire velocemente Però Se passa attraverso Se passa attraverso Che stai a fa? Vieni qua Eccola 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 E sta già passando attraverso È accidenti però Rosetta Fai da brava È stato proprio Vieni Allora Cioè io dico Cioè è stata proprio una cosa tristissima Perché non ci ha dato neanche l'illusione Che potesse rimanere È proprio andata dritta attraverso Io ci sono rimasta malissima Pensavo Rifacciamo la serra Rifacciamo la via della salvezza Cerchiamo Di farli più fighi Perché a sto punto Dopo tutta questa tristezza Che Rosetta ci ha dato No beh a sto punto ci concentriamo Una felicità da altre parti Capito come quando lavori molto Per dimenticare le tue tristezze Brava Quindi la stessa cosa Brava Dimentichiamo che Rosetta Ci ha spezzato il cuore Andiamo avanti Sì Te che avevo visto Una costruzione bellissima Di un canale inglese Che praticamente Ma guardi un sacco di canali inglesi te Eh sì È divertente Che cosa aveva fatto? Eh Ha fatto una specie di piramide Con le palme in mezzo Eh vabbè ma che difficile È difficilissimo Però se ci riusciamo È Spettacolare Allora Non è neanche ben presente Perché non ho idea Di come costruire una piramide qua Aspetta Mi sono illuminato Ok Questo è perché Pasqualmo Sta iniziando a illuminare No non c'è bisogno Non c'è bisogno Grazie Noi facciamo la piramide Che risulta come serra per le palme E nella punta della piramide Mettiamo la palma della salvezza È geniale È perfetto È geniale È perfetto Lo facciamo Ok La facciamo però sempre da questa parte Tutto qua Gigantesco È tutto qua E invece poi dall'altra parte Facciamo la via Lì dritti la via secondo me Ok Proprio per fuggire Sì Sono d'accordo Io non ho neanche presente Come posta è Neanche io Cioè come neanche io L'hai vista te Ma l'ho vista di sigute Di sfiggita Di sfiggita Sfiggite Cioè come hai capito Quando guardi una cosa Ah sì bellina Molto figo Ma non ce la faremo mai Però me la dimentico pure immediatamente Capito Eh tu sei un po' scarso Diciamo che non ho proprio idea Di come rifarla Allora aspetta Abbiamo delle piattaforme solo dritte Come accidenti facciamo ad andare Verso l'altro L'alto L'altro L'alto Allora Come iniziamo scusami Piattaforma Poi muro Piattaforma Muro Piattaforma Cioè facendo così Facciamo uno schema in un foglio Praticamente Prendi un foglio Ce l'hai lì davanti No no ci serve un foglio da disegno No te lo faccio Guarda ho già capito Ci serve un foglio da disegno Perché facciamo una cosa architettonica Quindi allora No dammi quello Te lo faccio Silenzio Ti ho detto che ho già un'idea Dammelo No ho io l'idea No ce l'ho io No ce l'ho io Ce l'ho io Ce l'ho io Fammi bene Perché fanno sempre schifo Quindi almeno dammi il foglio Ora lo cerco Più o meno dai Sta andando un po' storto Eh no è all'inizio E vabbè dai Non è che le puoi mettere sempre Precisissimi È impossibile Posizioniamo I nostri bellissimi floor Così si inizia a intravedere Un po' una forma Di questa piramide Esatto Così forse mi capisce anche Un po' meglio Sì mi sto un po' perdendo Perché adesso come facciamo Il secondo piano Io pensavo che Questi fossero alti come le palme Invece le palme sono più alte No no le palme sono altissime Vabbè Però Ho fiducia Guardate consolini Come risulta Praticamente la prima Il primo piano è questo Il primo piano è fatto così Ok A questo punto Noi praticamente Dobbiamo costruire Cerco di fartelo capire Un pochettino Esatto grazie Dei pilastri qui sopra Ok Quando fai quel pilastro Li metti un floor sopra E sei sopra le palme E sei sopra le palme Ok Ma come fai Potete andare verso l'interno Mettendo un floor verso l'interno Perché il pilastro ti permette Di andare almeno uno all'interno Ah perfetto Perfetto Capisci Ok ok Sì ho capito Ho capito Ho capito Ho capito Ho capito No ci sono Ci sono Ok Inizio a vedere la forma Della nostra piramide Eh vabbè Ma sempre lo stesso Pilastro qua Pilastro qua Pilastro qua Pilastro qua Pilastro qui Pilastro qui E pilastro qui Adesso finiamo con i vari floor Ok Possiamo tranquillamente farli tutti Quindi ta 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 Stiamo andando veloci eh Stiamo andando veloci Pensavo ci avremmo messo più tempo Anche io Anche io E vabbè Aiuta tantissimo A avere già i materiali pronti Quindi Guarda Sì Primo piano finito Inizio ad avere forma Adesso noi dobbiamo fare i pilastro Pilastri Sopra Allora per salire Ci serve un'idea Io pensavo Una scala Di fare una scala dietro Perché vederla È bruttino Sì sì Tacchete E tacchete Ok A questo punto Noi stiamo al piano di sopra Rimettiamo il pillar Ovviamente negli stessi punti Perché così È più comodo Sto facendo giusto Sì è giusto È giusto vai Quindi uno sì E uno no Adesso non devo neanche più stare a controllare Troppo a terra E ci siamo quasi Dai fra poco Eh ma già il secondo piano Ci stiamo facendo Io pensavo neanche Che è malappena finissimo il primo Ti dico Senta siamo troppo fighi Che bello Guarda Sì 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 Adesso dai finiamo il secondo piano E si capisce la forma Esatto Almeno facciamo capire la forma Ci siamo Finalmente posso far capire sia te Che hai consolini Ta 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 Capisci Ok Tu poi qua Continui E fai la stessa cosa Ok Quindi capito come risulta No Io sto facendo un'opera meravigliosa Che piace a tutti i consolini E solo tu la stai criticando Sinceramente Perché sono un po' Un po' confusa Solo quella E l'ho notato Ma tu sei Ecco vedi cosa succede All'avere Ferenichi che ti distrae Ma stai zitta Ragazzi È quasi finita No ce la facciamo ormai Ormai ce la facciamo Io pensavo che ci sarebbe voluto più tempo Eh ma adesso è diverso Eh vabbè devi fare sempre uno sì e uno no Parti da quello e fai uno sì e uno no Giustamente diverso Ok Hai ragione Uno sì Uno no Uno sì Uno no Ta Ok Ta 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 È fatto È fatto L'ultimo piano è quello di Pasqualmo Ci siamo Oh mio Dio Che bello Ma secondo te Ha questa altezza O ne facciamo ancora una più ristretta Secondo me una ancora più ristretta Allora se ci sta la palma una più ristretta Ok Perché adesso non so quanto poi spazio effettivo ci rimane Ok No sì ce la facciamo Mi sa che ce la facciamo Sarà fantastico No sarà fantastico Mi sa che abbiamo appena finito la legna Quindi dobbiamo buttare giù un po' di palme Però ormai è praticamente fatta Che bella E vabbè bellissima così Vero E poi quando si vedrà Pasqualmo sarà ancora più bella Sarà lì in alto Ta da Ok Figata pazzesca Allora recupero tutto da terra Taglio tutte quelle palme Quelle in più taglio Distruggo anche i vasi E poi finiamo Siamo nella vetta Ultimo piano Ultimo piano È il momento Allora Dai che ce la facciamo Ta 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 Questa No No Di nuovo No perché si bug Ma che noi Abbiamo anche dovuto chiudere e riaprire il gioco Perché se era buggata l'ascia non potevamo più colpire Quindi non potevamo tagliare la legna Ma secondo me va bene di così di grandezza Come quella che stai facendo Un bug dopo l'altro Guarda Falla così Continua Creiamo il vaso sacro Vai Pasqualmo è tornato Pasqualmo è tornato Abbiamo un semino Sì Ok Meno male che ci mancava stradita Ce la facciamo Sì Guarda che bello Vai Mangio Visto che ci sono Mangio molto E gli piantiamo di nuovo i sevini Etta Ci buttiamo E vabbè Sei pronta Sì È altissima Allora Vediamola da sotto Abbiamo anche tolto tutte le palme Quindi vedete il lavoro finito Così sì Che si ragiona Guarda Che dici Sempre con la luce eterea Guarda Certo Ma quella non può mancare La visuale Per farla vedere bene Mentre crescerà Guarda E tra un po' la vediamo anche sbucare Perché cresce È bellissima Sto aspettando quel momento Ho capito È bellissima Questo è un giorno Che nell'anno andrà festeggiato tutti gli anni È il 2 gennaio Ok È La rinascita di Pasqualmo Santo Pasqualmo Ok La rinascita sua si sta a indicare E bisogna festeggiarlo stando qua davanti Ad aspettare che Che punti Capito Nelle Ma ce la faremo a vederlo Dobbiamo aspettare due ore e me Hai piantato i semi Sì ti sei ricordato Credo di sì Come credi Adesso vediamo Perché io non vedo niente di niente Eh beh Si vuole prendere il suo tempo Secondo me c'è La vedi? Sì Sì c'è La vedi? Saltandola vediamo Sta crescendo Eccola Guarda Guardalo Le prime foglie che spucano Stanno crescendo Sta salendo piano piano Perfetto Dai Ci fermiamo così per questo video Prossimo video Dato che abbiamo la palma della salvezza Tornerà la strada della salvezza Andremo nella fine della mappa A vedere un pochettino Se troviamo qualcosa Cosa succede Insomma Esploriamo un po' anche lì Per curiosità Dopodiché Bo Dateci consigli come sempre Io ho già un'altra idea Devo essere sincero Però Voglio vedere se i consolini Ci consigliano qualcosa Se consigliano magari L'idea che ho già avuto Perché comunque Già ad esempio Di catturare lo squalo L'avevano pensato in tanti L'avevano consigliato in tanti Ed è divertente Vedere che ogni tanto Abbiamo le stesse idee Stai morendo di sette Oh grazie Ci fermiamo così Per questo video Mangiando un po' di cocco bello Hashtag E ci vediamo domani Beh ragazzi Se ci esiste Lasciateci un bel like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerarvi Di iscrivervi Per non perdervi Gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao Ciao